Sì, partirei intanto Alessandra dalla supermedia dei sondaggi che Utrend realizza ogni settimana e vediamo nella supermedia di questa settimana già qualche segnale forse dell'effetto quirinale nel centrodestra, lo vediamo con il cartello 1, eccolo qua, perché c'è sostanzialmente una stabilità del PD intorno al 21%, ma invece quello che si muove un po' è il consenso all'interno del centrodestra, una crescita di Fratelli d'Italia e un calo della Lega di quasi un punto, vedete più 0,8 per Fratelli d'Italia e meno 0,8 per la Lega, una stabilità invece nel Movimento 5 Stelle intorno al 14%, Forza Italia 8,1% questa settimana, possiamo vedere il secondo cartello con gli altri partiti in cui vediamo in realtà una crescita di Italia Viva, di Matteo Renzi che è stimata al 3% nella media di questa settimana e gli altri soggetti più Europa azione 4,3, i verdi al 2,4, sinistra italiana al 2,1 e articolo 1 all'1,6%. Questo è il quadro dei singoli partiti, Alessandra c'è questo effetto quirinale che deriva probabilmente da una percezione nell'elettorato di centrodestra che Salvini abbia faticato molto a trovare la leadership che cercava nella partita del quirinale, per tornare al discorso che si faceva prima su centrodestra, soprattutto destra, quindi Fratelli d'Italia e Lega e Mondo Novax, sicuramente abbiamo visto negli ultimi mesi una tendenza, almeno di alcuni settori di questi due partiti a cercare consenso tra le persone scettiche nei confronti del vaccino, è vero quello che diceva Luciano Capone, cioè è una nicchia molto piccola dell'opinione pubblica ormai, il 90% come sappiamo sostanzialmente degli italiani il vaccino lo ha fatto e questo si spiega forse col tentativo di costruire un rapporto con comunque questa nicchia di elettorato che potrebbe pesare sulle future elezioni, c'è anche da dire però che se vediamo il dato generale di Fratelli d'Italia e Lega è inferiore a quello di inizio pandemia e se vediamo i segnali, penso alle elezioni amministrative che per carità sono amministrative ma qualche segnale l'hanno dato, l'impressione è che questo atteggiamento rischi quantomeno di scontentare gli uni e gli altri, cioè di scontentare i più moderati Provax senza riuscire a incamerare davvero il consenso dei Novax. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità in ritardissimo.